La festa del cinema di Roma, che si terra dal 26 ottobre al 5 novembre presso l'auditorio Un Parco della Musica, punta sulla formula pochi ma buoni. Pochi film, 39 nella selezione ufficiale, ma di ottima fattura. Un festival che non somiglia a nessun altro e infatti si chiama Festa, con pochi soldi, 3 milioni 400 mila euro, un quarto di quello della mostra di Venezia. Alla direzione artistica ancora Antonio Monda, riconfermato per tre anni dopo il successo della passata edizione, con più del 18% di pubblico e il 38% della copertura di media stranieri. Ad aprire la festa, Hostiles, di Scott Cooper, un western che esplora il rapporto con i nativi americani. Moltissimi incontri ravvicinati con attori e registi che si raccontano, Nanni Moretti, finora era rimasto freddo sulla kermesse della sua città, Xavier Dolan, David Lynch e ancora Ian McKellen, e due volte premio Oscar, Christoph Waltz, fino a Gigi Proietti. La retrospettiva, la scuola italiana, è dedicata ai generi rivestitati della nostra cinematografia, come Umberto D. di Le Sica, Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, 8 e mezzo di Fellini. Tra gli omaggi c'è anche Estauro di Borotalco. Le proiezioni saranno aperte con pillole di cinema e per l'edizione di quest'anno è stato scelto il genere musical, da West Side Story a Singing in the Rain fino a Hair. Grazie mille!